Minecraft, ma il mondo è in 2D Andiamo subito a creare un nuovo mondo Chiamandolo con un nome semplicissimo Avere un new world 2D E ora andiamo subito a crearlo Ora che sono nel mondo l'obiettivo principale come al solito È quello di trovare dei diamanti L'unico problema è che tranne me è tutto un mondo 2D Infatti sono l'unica cosa non 2D Io sono 3D E l'unica fonte di legno è questo sapling Eh, essendo che non ci sono alberi Devo aspettare che cresca questo sapling Prendiamo della legna Creiamo un crafting Creiamo un piccone Prendiamo della pietra Creiamo un piccone e un'ascia in pietra Penso che qua l'unica cosa sia scavarsi sotto Sperando di trovare Ho trovato la caverna Prendiamo del ferro Facciamo il ferro Creiamo un piccone in ferro E ora andiamo a cercare i diamanti Come già detto qua bisogna scavarsi sotto Beh La prima regola di Minecraft è non scavarsi sotto Aspetta, ma quali sono diamanti? Sono diamanti Era lì, era lì, era lì Appaffo